ok dovrebbe dovremmo essere in linea assolutamente sì ascolta è l'ultima puntata che abbiamo fatto settimana scorsa abbiamo dato il numero di telefono degli omni radio e sono arrivate un sacco di domande wow e che naturalmente però devi rispondere te che sei il competente o pronti iniziamo con la presentazione io sono nico colani di omni radio e gestisco i canali di omni web tv io invece sono fabrizio mascherpa gestisco una pagina e anche un canale podcast wii motosport che lo potete trovare su tutte le piattaforme anche su youtube e anche un canale twitch dove facciamo le live dove parliamo di due e quattro ruote perfetto allora iniziamo con le domande preparati perché qua ce n'hai da rispondere allora mi dice mi dicono come ogni stagione che si rispetti si presentano le moto nuove come ti sembrano cosa ne pesi cosa ne pensi delle case giapponesi vai allora tutti gli anni adesso siamo entrati in una moto gp diciamo un po atipica un po esotica perché adesso diciamo che si è un po spostato l'equilibrio più sulla parte tecnica sulla parte aerodinamica è una moto gp che ha strezzato l'occhio verso la formula 1 una moto gp che vede sempre la formula 1 con un complesso di inferiorità e fa di tutto per assecondarla per copiarla quindi questa queste moto le vedo estremamente complicate ma estremamente aerodinamiche perché ormai l'aerodinamica non è più un concetto filosofale è un concetto estremizzato alla perfezione quindi sono tutte belle ducati soprattutto ha estremizzato il concetto da anni mi collego alla seconda domanda le case giapponesi le case giapponesi sono in evidente difficoltà il regolamento e anche spieghiamo anche l'msma che sarebbe la riunione dei costruttori dove tutti i capo esponenti dei team si riuniscono per parlare del regolamento delle scelte tecniche da adottare nei futuri regolamenti hanno adottato insieme ad adorna di aiutare le case giapponesi dandole la concessione open open ok aperto ma vuol dire che praticamente non hanno tutto questo restringimento tutto questo regolamento restrittivo sia come motori che hanno cinque motori all'anno e comunque hanno delle sessioni di test molto relegate e di cui possono provare solo in tali giornate i tester invece le case giapponesi hanno molti più giorni per provare anche con i piloti ufficiali oltre ad avere anche motori illimitati e pezzi illimitati senza avere troppi troppi condigentamenti quindi le case giapponesi diciamo stanno perdendo un po la scena allora le case giapponesi stanno perdendo anche un po la scena anche diciamo che si va allora riassumendo si va epoche diciamo che il motociclismo è l'europa ha fatto da padrona negli anni passati e poi giapponesi hanno copiato poi giapponesi hanno preso il sopravvento e tutti gli europei rincorrevano come ducati come cajiva come paton e altri marchi negli ultimi anni diciamo che da quando ducati o meglio ducati dalla holding del torchio dopo la parentesi con valentino rossi perché da lì che è un po arrenata la parentesi ducati dopo aver toccato il fondo dopo aver vinto anche con questi sonner diciamo che dopo aver venduto ed essere diventata tedesca perché ducati è tedesca perché è stata comprata da audi dal gruppo volkswagen dal gruppo volkswagen e anche con i soldi di audi e anche con la tecnologia di audi perché comunque audi domina nella lehman series nei campionati prototipo nei campionati a ruote coperte e anche con i soldi di audi ha potuto effettuare l'investimento che sta fruttando tantissimo rilievo che è l'acquisto dell'ingegnere di punta come la formula 1 a adrian newy in red bull che è un genio anche la ducati a gg dell'inia perché è tutto quello che ha toccato diciamo che erede di viteven in aprilia ma tutto quello che ha toccato è stato quasi oro perché ha creato la rsv4 non ha avuto tempo neanche di provare a far andare la rc cube che era un prodigio di tecnologia un motore derivato di formula 1 e le rsa che è durata pochissimo perché poi è entrata in vigore la moto 3 uguale la moto la 250 che poi è entrata in vigore la moto 2 quindi con i soldi di audi è stato bravo essere da linea i giapponesi all'inizio hanno fatto ostruzione perché per loro il concetto della moto era un concetto semplice dove il pilota che è anche giusto che il pilota deve fare la differenza e la moto deve deve essere una moto e il problema che i giapponesi col poi col tempo hanno capito che fare ostruzione non è servito a nulla perché comunque lo sviluppo non si può fermare tramite all shot abbassatori alette device e viceversa e quindi adesso si toccano a rincorrere il problema che la honda ha perso già un suo pezzo da 90 come mark marquez e adesso anche yamaha risiede di perdere un suo un suo ex campione del mondo che è il francese fabio quarterraro ascolta ti adesso questa è una domanda che non è in elenco te la faccio io perché io come abbiamo già parlato mi piace che improvvisi non non sono più aggiornato come alcuni anni fa la ducati è sempre un po' inguidabile o ci vuole un determinato pilota che che la capisca oppure è diventata più dolce allora la ducati ha sempre avuto un carattere non dico scorbutico ma un suo carattere ha un suo dna la ducati diciamo che il ducatista ha dovuto fare i conti un po con la realtà perché il ducatista crede nella telaia in tralicio crede nel colore rosso crede nel motore desmo crede nel v2 crede nel motore al di 90 e la ducati negli anni come tutte e come tutti i bambini nascono bambini poi crescono diventano ragazzi adolescenti adulti il motore non è più a l di 90 il telaio non è più in tralicio siamo passati dal tralicio monoscocca a telaio come giapponesi detta box a doppia culla siamo passati a un motore quattro cilindri cioè siamo passati sempre a un colore rosso però comunque la ducati non corre neanche più anche in superbike ha dovuto cedere e passare al v4 e non al v2 quindi diciamo che questa caratteristica ha fatto cambiare cambiare il passo inguidabile allora la ducati fino a quando non si è sperimentate così in maniera massiccia le alette ha sempre avuto poco poco carico sull'anteriore fino a quando le guidava stoner che era un pilota con delle abilità fantastiche che metteva il cuore o anche belis come un denominatore erano australiani che sembra che dalla terra lì possono guidare qualsiasi cosa e riuscivano a metterci un più di una pezza anche dovizioso ha fatto molta fatica con la ducati che andava veloce solo in certe piste e in certe condizioni da quando sono arrivate le alette finalmente è arrivato il carico sull'anteriore e mettendo questo carico sull'anteriore la ducati anche una volta mettiamola così tanta potenza era superflua perché metteva in crisi il telaio le gomme l'elettronica è così invece mettendo le alette la tanta potenza non è mai abbastanza perché tu la potenza la metti per terra è vero quindi ma io posso solo spezzare una lancia a favore della ducati perché come detto tu ci vuole una persona ci vuole un pilota ci vuole che non lo so che abbiano una simbiosi perché questo è quello che è accaduto a me io avevo avuto un sacco di moto di moto poi a un certo punto ho avuto la ducati e mi sono sentito vestito con la ducati era pesante però mi piaceva e diciamo che dava parecchie soddisfazioni adesso non so come sono quelle lì di adesso però se se sono come quelle degli anni passati sinceramente a me piacciono io non so tu sei avuto qualche esperienza ma come come ducati no mi sono sono sempre stata abbastanza legato alle giapponesi però no ducati l'ho provata diciamo che sì bella però comunque a livello di poi opinioni a livello di guida è il carattere del motore particolare adesso non voglio divagare però io a anni passati avevo degli amici che erano affascinati dalla jaguar no io sinceramente non la volevo nemmeno se me la regalavano perché tre giorni una settimana eri dal meccanico sinceramente non ce la devi prendo sì ma poi devi essere sempre dal meccanico magari quelle di adesso sono diverse passiamo all'altra domanda le case europee domineranno ancora la scena allora le case europee stanno dominando la scena perché comunque sono in fascia di maggioranza perché non ci sono più tre sorelle giapponesi o quattro sorelle giapponesi come nella nella massima esperienza in moto gp che c'era kawasaki yaman onda e suzuki poi kawasaki è uscita è rimasta dentro suzuki che è riuscita e poi è rientrata adesso suzuki è riuscita e le uniche due sono rimaste onde yaman che stanno faticando però per fattori di cose devono stanno facendo di tutto per farle rientrare le case europee stanno dominando perché comunque c'hai una ducati che è super italianissima dall'organico sì e quindi è una casa che a borgo panigale ci crede sta spingendo ha anche la fortuna di avere il team di valentino nel suo organico quindi avere un connubio un filo diretto con i giovani dove che ne ha portati morbidelli quest'anno in pramac bezzecchi nel team vr 46 bagnaia due volte campione del mondo nel team lenovo ducati ufficiale quindi ha anche una prelazione importante ktm che ha fatto spesa da ducati perché comunque ha preso pulin che era l'ex tecnico di miller miller alberto girivuola che era il tecnico di dovizioso adesso è il delegato dello sviluppo in pista ha preso il sterracchini che in ducati aveva un un incarico sul l'andamento della della moto in pista adesso sterracchini è il designer di delle ktm e il disegnatore il project leader e poi ha preso francesco guidotti perché si è trovato un po' la stata sbarrata guidotti perché voleva penso che lui avrebbe ambito a una promozione nel team ufficiale e invece questa promozione non c'è stata anche per meriti perché comunque in pramac ha fatto sempre un bellissimo lavoro e invece il pire gruppo di stefan pire e anche pitt buyer gioco di parole ma sono due persone diverse perché uno è il CEO di ktm l'altro è il CEO di ktm sport e praticamente hanno accettato e hanno preso francesco guidotti alla alla guida del della red bull ktm ufficiale in moto gp quindi diciamo che anche ktm ha fatto la spesa bene poi ha dei bellissimi piloti tipo binder miller pedro costa due volte campione del mondo è rookie che ha deliziato in solo ed è soltanto la prima gara quindi tenetelo d'occhio e poi c'è aprilia aprilia che diciamo che ha fatto spesa dalla formula 1 lei ha fatto spesa dalla formula 1 che ha preso rivola che esperienze minardi ferrari poi andata a fare il CEO di aprilia che praticamente è vero che era con la nin però comunque è il time director di aprilia racing e poi c'è romano albesiano che ha lavorato in cajiva ha lavorato anche in aprilia ha fatto due incarichi adesso così e poi ci sono tanti altri che hanno lavorato come anche in aprilia come anche in nelle moto giapponesi come anche ingegner marmorini anche lui ingegni motorista in ferrari e poi adesso ha lavorato in aprilia per poi approdare dallo scorso dallo scorso anno in in chiamato perfetto adesso te la senti di trasformarti in hotel ma sai che le previsioni sì perché c'è una domanda di un nostro nostro ascoltatore che dice chi sarà il favorito per la stagione 2024 favorito rimane bagnaia bagnaia perché comunque l'anno scorso non deve ingannare l'esito della stagione perché bagnaia fino a quando c'è stato un campionato regolare e per regolare intendo niente infortuni niente cadute così purtroppo è caduto per un evento per un per un problema nella zona posteriore non entriamo nei dettagli però diciamo che fino a quando bagnaia ha corso senza intoppi senza cadute senza infortuni bagnaia aveva 60 punti di vantaggio poi bagnaia la gara dopo ha corso tutto acciaccato e ha fatto due terzi posti a misano poi quelli che dicono che il mondiale c'è stato tuttato il complotto per per la gomma di martin io dico che martin purtroppo il motosport come tutti gli sport è crudele si passa da essere ci puntati a essere campioni quindi in un secondo sei dalle stelle alle stalle quindi metti la gomma morbida è vero nell'ultimo giro ha avuto il crollo ma se fosse durato un giro in me era un fenomeno era l'unico che avesse messo la morbida in tailandia è caduto quando aveva tre secondi di vantaggio e quindi ha buttato via lui il campionato però senza infortuni bagnaia avrebbe vinto non dico a mani basse ma con con margine ascolta questa è una domanda un po diciamo forse un po scontata però ce l'hanno ce l'hanno inviata e te la pongo le gomme saranno ancora determinanti in moto gp purtroppo sì ma è negativo nel senso che michelin purtroppo vabbè però sotto gli occhi di tutti non è che lo dico io non sta lavorando bene in moto gp perché da purtroppo è dal 2016 che è entrata e prendere la l'eredità di Bridgestone che Bridgestone fino allora ha fatto o aveva fatto un lavoro ineccepibile Bridgestone ricordiamoci che è uscita per sponsorizzare le olimpiadi di tokyo per essere i main sponsor delle olimpiadi di tokyo quindi per quello che è uscita è uscita dalla moto gp ma ha continuato comunque a fornire le gomme nel mondiale endurance alle case ufficiali nella categoria superbike quindi è vero Bridgestone aveva il 16 e mezzo poi si è adeguata al mercato e è passata anche lei alla 17 tranne l'unica deroga nell'autore di suzuka quando un team corse con 16 e mezzo a posteriore però michelin dal 2016 che fa fatica fa fatica non tanto in prestazione ma tanto nel controllo qualità mi spiego purtroppo negli anni ci sono stati troppe volte che da una gomma all'altra e dalle stelle alle stalle cioè nel senso un pilota ci sono state delle gare dove anche 2020 2021 dove le gare furono state interrotte un pilota mette un'altra gomma uguale dello stesso compound cioè vuol dire la carcassa mescola e il pilota ha tutt'altro che le prestazioni queste gomme salgono di pressione spiegabili il pilota fanno fatica non riescono più a performare hanno due il pilota fa fatica tipo bagnaia lo scorso anno faceva primo primo nelle prove prima in qualifica poi partiva la sprint quinto ma in gara nella gara lunga primo e quindi vuol dire che c'è qualcosa purtroppo non lo dico io ma lo dicono i fatti perché diciamo che michelin ha dato istruzioni severe sul non parlare delle non parlare male delle gomme ma girarci molto intorno quindi diciamo che è un problema più che serio perché anche i piloti diciamo che anche bagnaia lo scorso anno a barcellona diciamo che un high side alla seconda curva senza capire perché è dovuto praticamente anche a quello allora salto la domanda che di seguito perché ho visto che un nostro sempre un nostro ascoltatore ci ha mandato una una domanda sempre inerente alle gomme dice pirelli diventa il gommista delle classi moto 2 e moto 3 come la vedi la vedo bene perché diciamo che non è un deja vu però diciamo che è un film già visto e mi ricollego a quando pirelli dovette entrare in superbike che c'era un po' di diffidenza perché comunque in superbike c'erano le gomme ufficiali con team ufficiali e poi dopo c'erano le gomme private quelle non dico riuscite un pochino così così però diciamo che non c'era lo stesso trattamento anche per i team satelliti o privati e quindi diciamo che a primo acchitto i giapponesi pensavano che pirelli favorisse i team italiani come ducati o aprilia o anche benelli che in quegli anni lì c'era e quindi i giapponesi uscirono sia anche per un regolamento tecnico che li sfavoriva perché i giapponesi usavano tutti i quattro cilindri che erano prettamente i giapponesi avevano il limite di 750 centimetri cubi mentre le italiane bicilindriche avevano il vantaggio di avere la cubatura fino a mille quindi col monogomma pirelli diciamo che c'è purtroppo c'era dato avevano dato adito a questo pensiero sbagliato perché comunque nel 2003 pirelli entrò e fece vedere che tutte le moto potevano andare forte come le kawasaki il team bertocchi la suzuki del team all star che proprio anche nel 2005 la suzuki vinse il suo primo e unico titolo in superbike contro il corsair proprio nel 2005 tutti i giapponesi decisero di rientrare e poi pirelli è il gommista che tuttora gomma tutte le classi della world superbike weekend quindi vuol dire le classi della 300 le classi della 600 e la classe della 1000 e pirelli comunque già gommava la stock negli anni poi è entrata a a man bassa a prendersi il campionato principale quindi io dico è solo la prima gara diciamo che le difficoltà le ha avute nella durat della gara con certe moto in moto 2 in moto 3 la gomma è perfetta cioè i piloti hanno abbassato di 30 secondi c'è il vincitore abbassato di 30 secondi il ritmo della gara hanno fatto record sul giro record in qualifica record del tracciato pirelli anzi michelin deve stare attenta perché pirelli sta arrivando perché in moto 2 usano la stessa gomma che usano in superbike quindi ci vuole uno sviluppo per la gomma da moto 2 perché comunque le moto prototipo stressano molto di più la gomma però è una gomma derivata dalla serie che ognuno se vuole per andare a farsi giro in pista può comprare quindi pirelli al futuro ma diciamo che in generale la pirelli sempre stata una buona gomma comunque assolutamente sì questo parliamo sempre di anni addietro vogliamo ricordare il numero se qualcuno volesse porre ancora delle domande delle domande allora 380 37 11 394 mandateci le vostre domande su telegramma su whatsapp abbiamo qua fabrizio mascherpa che disponibile a rispondere a tutte le domande allora riagganciamoci al tuo discorso precedente su bagnai bagnai è l'uomo da battere pensi che possa vincere il terzo titolo consecutivo bagnai può vincere il terzo titolo consecutivo a tutte le carte in regola non manca niente perché comunque all appoggio della vr 46 alla fiducia di ducati perché comunque è fresco di rinnovo quindi all'inizio dell'anno ha già garantito il suo posto e comunque sfido chi fosse o meglio avrebbe trovato il coraggio di lasciare la moto vincente del team ufficiale quando sei vincitore e detentore del titolo mondiale e quindi il favorito è lui non c'è un altro favorito e invece un altro un altro nostro ascoltatore dice cosa ne pensi di pedro a costa pedro a costa è un fenomeno perché comunque è bello in tutto per tutto pedro perché comunque è uno che non ha paura di dire le cose nelle interviste è sempre sincero a dispetto di qualche altro spagnolo in pista è aggressivo ma è un aggressivo corretto ricorda molto simoncelli non è scorretto è molto aggressivo ma è molto corretto non ha timore reverenziali e comunque ha dimostrato il moto 3 come moto 2 dal basso è arrivato in alto ha vinto la rookies nel 2021 è arrivato in moto 2 2022 no rookies 2020 vinta 2021 titolo moto 3 all'esordio nel mondiale 2022 ha fatto un buon anno moto 2 2023 titolo della moto 2 2024 ha fatto la prima gara in Qatar due weekend fa e già tra i primi deve soltanto cominciare a capire un attimino come si comportano queste michelin perché le michelin se parti a cannone e provi nella rimonta non durano una gara appunto quello che mi ricollegavo prima del test di qualità che manca manca un test qualità perché i piloti nella sprint hanno tirato e sono rimasti qualcuno anche sorpreso che la gomma abbia avuto un callo così importante nella gara lunga sono tutti partiti col freno a mano tirato dicendo teniamo la gomma che nel finale ci spariamo tutte le cartucce e invece nel finale chi ha invece bagnai ha fatto tutta un'altra tattica preso aggredito nei primi giri ed è scappato invece i piloti che hanno conservato diciamo che hanno conservato per nulla perché negli ultimi giri la gomma di gomma ce n'era anche fin troppo e quindi sono andati piano per niente diciamo che hanno sbagliato tattica veniamo un po qui chiedono diciamo è una domanda un po commerciale liberty media pensa di comprare di dorna come la vedi tu penso che alla fine la comprerà a dorna perché dorna diciamo che ha fatto mali compiti ha fatto mali compiti nel senso che dorna è vero ha fatto tanto per la moto gp ha fatto tanto per la 500 ricordiamo che dorna ha comprato il circus e anche i diritti dal 1992 in poi e ha fatto tanto per tirare su questo sport e anche questa categoria ha avuto anche degli ottimi interpreti che hanno colorato ha avuto i capi rossi 125 poi è salito fino alle massime categorie l'avvento di viaggi e tanti altri valentino rossi ha avuto due gli americani loso un garner gli australiani duo un garner gli americani renei loso un franzo quindi ha avuto tanti interpreti poi soprattutto valentino è stato stato un traino anche per le televisioni e poi ovvio che nel nella fase moderna c'è stato anche dell'andrea i capi rossi e viaggi valentino stoner lorenzo marquez dovizioso ci sono ragioni normale di viaggi non era male no vero no quello che lo ha sempre come si chiama lo ha sempre mi viene il termine e si stuzzivano un po e si ma il carattere di viaggi anche con la stampa non non era furbo ecco lo ha sempre penalizzato il carattere viaggi perché era molto fucoso come si dice rispondeva sempre non lasciava mai cadere una polemica che piacevano sia a differenza di valentino si è vero ricordo valentino già come 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 anche gestione della mediatica si 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 è più capace a lasciarsi lasciarsi scivolare le cose ma anche protrarla a suo vantaggio ma diciamo che anche un po uno una persona sempre nel bene un po terra terra se lo incontri per strada la salute non si gira anche se non ti conosce non si gira dalla parte opposta è vero esatto vediamo qua qualcosa di tecnico è qui adesso qui si si vede la tua competenza qui un ascoltatore dice cosa ne pensi dell'aereo dell'aerodinamica allora partiamo da una massima lo sviluppo non si può fermare ok però diciamo che è un po scappata la mano perché si sta trascendendo da andare in moto perché come tutte le cose se non se si dà libero sfogo a un'idea a una a un'evoluzione se non si danno delle regole si perde il confine cioè praticamente non c'è non c'è una regola e tutti fanno un po quello che vogliono si perde il controllo ecco quello che crei poi dopo si va sempre oltre per farti un esempio ti dico nel 2016 se ha detto ok ok cambio del gommista ma soprattutto c'è fu l'introduzione della centralina unica per dare a tutti le stesse opportunità non ai filotti ufficiali il software ufficiali e gli altri un software privato bloccato ma tutti la stessa centralina perché bisognava portare elettronica più indietro tipo agli anni 2006 2007 quando c'era meno elettronica però poi lavorandoci 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 sono arrivati a un punto che è arrivata anche oltre del 2015 e quindi adesso come adesso hanno delle moto che elettronicamente sono più performanti di quando avevano smesso di dare i software personalizzati quindi adesso l'elettronica è arrivata a dei livelli folli che non dico che le moto vanno da sole però comunque hanno delle grandi mano il pilota fa ancora il suo e tanto però con l'aerodinamica diciamo che sono 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 anche un po indecifrabili le gare perché adesso il pilota può anche essere bravo e forte però se aerodinamicamente la moto non è a livello delle altre come competitività sul livello aerodinamico come carico e drag come drag è la resistenza all'avanzamento il carico è il carico verticale che da grip su ruota anteriore posteriore come device e rischia di penalizzarti e di farti passare da nella zona di testa a il gruppo della mischia della del gruppone quello di nella mischia dove dove si danno proprio botte vero ecco allora via questa domanda veniamo alla penultima allora vr 46 cambierà moto nel 2025 allora è una bella domanda questa perché valentino rossi al team con ducati ma valentino e brand ambassador di jama cioè lui è stipendiato da jama c'è capisci quindi valentino anche diciamo che chi ha valentino ha un po il alla gallina delle uova d'oro essere che valentino con la sua academy porta giovani sforna giovani e comunque fa in modo che metta i piloti giusti al posto giusto quindi diciamo che jama adesso spera che valentino accetti perché comunque la jama lo scorso anno ha perso due moto ha perso le moto del team rnf il team dirà di razlan razali che poi è è passato con jama e poi passato ad aprilia e poi è fallito il team adesso l'hanno preso e il team americano quindi jama spera disperatamente che valentino accetti perché comunque avere un team con valentino rossi con anche la prelazione dell'accademy che tutti i giovani bene o male non iniziano da ducati ma inizieranno da jama e sai avere un team di valentino in jama però è comunque bello affascinante stimolante però comunque non puoi adesso come adesso lasciare ducati che è la moto di riferimento per andare in jama è un rischio cioè come se l'è sentita valentino nel 2004 a mollare onda che era la miglior moto e prendere una moto da 30 secondi più o meno è la stessa situazione prendere una moto che sta facendo fatica ma fatica vera per provare a portarla in in orbita in orbita della ritornare a fausti vincente e magari sono sfide che uno magari le accetta però ci deve essere un barlume di speranza e messi a fin adesso è buio totale eh sì è un rischio veniamo all'ultima domanda 2025 il mercato entra nel vivo e tutti i contratti sono in scadenza e questo beh bagnai ha rinnovato c'è un un martin che ha detto a più volte e a più voci che lui nel 2025 vuole una moto ufficiale c'è già provato nel 2022 ma non c'è riuscito hanno preferito bastianeni e comunque bastianeni nel 2022 è andato più forte di martini lo scorso anno bastianeni in ufficiale ma bastianeni ha avuto una stagione compromessa da due infortuni abbastanza gravi la frattura del metatars e della tibia con anche la frattura della scapola alla prima gara gara sprint quindi non si può competere non si può competere bastianeni aveva un'opzione per l'anno 2024 e infatti è stata esercitata però martin ha detto io faccio il secondo nel mondiale non so più cosa non so più cos'altro devo fare voglio la moto ufficiale e quindi diciamo che è stato preso fermino aldeguer dalla moto 2 dal team di bosto scuro quindi il team pramac 2025 sarà aldeguer morbidelli e quindi bisogna vedere martin dove andrà un altro che e quindi sono molteplici può andare in ducato ufficiale può andare in aprilia come può andare anche in ktm bisogna vedere chi si libererà sicuramente quello che sta quello che non sta performando è jack miller che diciamo che pedro costa gli è finito davanti per ben due volte sia nella sprint sia in qualifica e sia anche in gara e poi c'è un fabio quartararo che scontento dai risultati di gamma c'è aprilia che sta facendo una corte sfrenata per portarlo direttamente annuale e bisogna vedere fabio dove andrà di sicuro tenerlo in ghiama con questi risultati è tosta cioè sono riusciti fino adesso e ghiama non può permettersi di perderlo ha fatto anche lei degli investimenti molto interessanti da ducati che si è presa praticamente anche da aprilia che ha preso marmorini come motorista e ha preso l'ingegnere bartolini come tecnico e anche disegnatore ma anche conoscente per portare know how di ducati in questi anni che è stato un tecnico di molto rilievo quindi diciamo che anche lei ha fatto la spesa e poi bisogna vedere come si muove il mercato quindi bisogna vedere anche marquez cosa farà l'anno prossimo perché mark marquez quest'anno è nel team gresini e bisogna vedere se rimarrà nel team gresini magari magari sì magari no il team gresini cambierà lui andrà lui a prendersi altre due moto perché le dichiarazioni di francesco guidotti era stata chiara ha detto ci piacerebbe nel 2025 avere sia marquez che a costa quindi magari è il team gresini che cambia la moto e passa il KTM poi bisogna vedere anche se il team VR46 magari passa lui invece che Yamaha passa il KTM bisogna vedere quindi diciamo che è bello perché comunque è affrezzante questo periodo però comunque ci vorrebbero delle regole anche qua ci vorrebbero delle regole come nel calcio delle finestre dove si è vero il contatto ci può essere ma non è possibile che a inizio campionato si parla già del campionato dopo capisce che un pilota se si capisce che non ha più la sella per l'anno dopo e deve spingere 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 per trovarsi una sella e fatica a trovare una sella capisci che quel pilota qui non è più tranquillo ma corre con un'agitazione che è letale vabbè giusto quindi aspetteremo di vedere i risultati e per forza diciamo che è anche la dichiarazione di Quartararo oggi che praticamente dichiarazione e post del suo capo tecnico hanno fatto riflettere perché la dichiarazione ha detto entro tra poche gare saprete il mio destino non contano solo i soldi ma conta anche la parte tecnica e poi c'è stato il post che è anche su Instagram di Diego Gubellini che è il suo capo tecnico che ha fatto vedere che Fabio Quartararo gli ha lasciato un casco autografato sulla visera e comunque i caschi autografati quando fai i famosi regali li fai a fine anno quando o smetti o cambi team quindi per me magari mi sbaglio per me è più di un messaggio ebbè sì sicuramente ok le domande sono finite se vuoi aggiungere qualcosa ma seguite Wii Motorsport seguite i miei canali seguitemi non perdetevi nessun episodio non perdetevi anzi non perdetevi mettete un bel segui sia su Twitch che su Spotify che su Youtube aiutatemi a crescere aiutate a crescere anche Omni Radio che è un'ottima piattaforma quindi riuscite anche a dare una mano anche a Nico che non guasta e poi seguite sia questa settimana c'è piatto ricco perché abbiamo la Formula 1 in Australia abbiamo la MotoGP in Portogallo e abbiamo anche la Superbike da Barcellona quindi cosa seguiamo per prima? te lo dico io si segue per prima la Formula 1 perché si corre in Australia e quindi si sveglia presto gara alle 5 di domenica quindi domenica tutti su a vederla per chi c'ha Sky e si va a vedere la gara non c'è problema perché c'è la replica anche su TV8 10-11.30 e poi dopo si fa a concatenarsi tutto il weekend di prove, gare quindi poi si vedrà anche la MotoGP indifferita per chi non ha Sky e si vola alla grande quindi non perdetevi anche la diretta domenica sera su Twitch di Winmotor Sport dove faremo un approfondimento e poi gli approfondimenti anche con Nico nei giorni seguenti senza altro manteniamoci in contatto e che dire ascoltateci vi ricordiamo ancora il numero se volete porre domande a Fabrizio 380 37 11 394 394 e niente siamo a disposizione di tutti buona serata grazie per averci ascoltato grazie a te Fabrizio grazie a te Nico alla prossima è un piacere ci aggiorniamo per le prossime puntate ok assolutamente sì sempre a disposizione ciao a tutti ciao